Sì, professionisti del vino, dove si mette insieme tradizione, qualità, passione, tanti giovani che investono sempre di più sulla valorizzazione delle nostre terre. Napoli insieme a Vienna, prime città d'Europa per produzione di vino, se oggi siamo primi per cultura e turismo è anche grazie al vino, alla gastronomia e alla valorizzazione delle terre. Mai più terra dei fuochi, invece terra di passione, di qualità, di grandissime tradizioni antiche, come è stato detto stamattina, che ci portiamo dall'epoca dei Greci. Un evento importante nella reggia di Portici, di proprietà della città metropolitana, sulla quale la città metropolitana sta investendo tanto. Sì, qua c'è un lavoro di grande ristrutturazione e di qualificazione, non solo della reggia, anche del bosco. Lo stiamo facendo insieme al territorio, lo stiamo facendo insieme al Dipartimento di Agraria. Noi investiamo sulla valorizzazione del patrimonio monumentale, immobiliare e anche sulla difesa del territorio contro i cambiamenti climatici, se pensiamo a quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Quindi ci sono investimenti in termini di risorse economiche, organizzative ed umane.